L'equipaggio di Reality Fishing è pronto a salpare per la Sardegna e lo stretto di Gibilterra per farci conoscere alcune mete inedite dove insidiare gli splendidi avversari in fresh e salt water. Reality Fishing Explorer, la nuova stagione, dal 3 giugno ogni lunedì alle 21.30 in esclusiva su Pesca, canale 236. Pesca, canale 236.00 in esclusiva su Pesca.